Il corso A3, Problem Solving Strategico, offre un approccio scientifico e strutturato per affrontare problemi aziendali critici come marginalità ridotte, reclami, eccesso di scarti e ritardi nei trasporti. Il metodo A3 promuove una risoluzione tempestiva e metodica, evitando l'improvvisazione e aiutando le aziende a trasformare le crisi in opportunità. Di miglioramento continuo, ideale per chi desidera migliorare la gestione operativa e ottimizzare i processi aziendali, il corso permette di sviluppare competenze strategiche fondamentali per il successo a lungo termine. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo. Sulle tue esigenze, entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.